Allora Diego Godin è un passo dal Cagliari stasera faccio un video nel quale vado ad elencare le alternative a Suarez per la Juventus di calciomercato con cotanto di trattative quindi segnatevelo dicevo Godin è un passo dal Cagliari a livello di pontatina diciamo a livello di pontatina di pontatina quantistico emozionale sapete cosa mi mi ricorda le unità iberiche di Imperium le guerre puniche o le grandi battaglie di Roma vi ricordate quel videogioco Imperium le guerre puniche è un trasferimento che mi ricorda le unità iberiche quindi gradirei che nei commenti a questo video voi commentaste esclusivamente citando le frasi che le unità iberiche di Imperium le guerre puniche dicevano quando le selezionavi e davi loro dei compiti tutti nei commenti e stasera